L'SD Mufloni con il presidente Valerio Visconti e Sabatino D'Ambrosio hanno raccontato l'emozione della loro ultima avventura ciclistica. Sono infatti partiti la scorsa settimana dal Castelluccio, simbolo di Battipaglia, per raggiungere l'Etna in Sicilia, un gruppo eterogeneo di ciclisti amanti delle due ruote, composto da affermati professionisti, imprenditori, artigiani, operai, commercianti. L'avventuroso team è unito dalla passione e dal desiderio di condividere l'amore per la natura, la libera pedalata e la voglia di vivere tutti assieme questa singolare iniziativa. Lo scorso anno i Mufloni raggiunsero da Battipaglia la città di Siena. Abbiamo trascorso tre giornate magnifiche spostandoci verso sud, è un po' il percorso quasi a ritroso del regno delle due Sicilie, neanche a farla apposta. Gli anni precedenti eravamo andati a nord, prima Roma, poi Siena, quest'anno abbiamo deciso di fare una puntata importante verso il sud per riscoprire le nostre terre e abbiamo vissuto e visto immagini, scenari, panorami da mozzafiato. Il nostro sud è bellissimo e questa voleva anche essere una rivalutazione, appunto come dicevi, non soltanto il fatto di compiere un'impresa goliardica, ma una rivalutazione del territorio partendo dalla nostra città, da Battipaglia e cercando di portare fuori anche il nome della città in un modo diverso, dando proprio un'immagine differente a questa località, partendo anche dal Castelluccio che è un po' il luogo simbolo nel bene e nel male, nonostante tutto quello che si voglia dire e pensare, è il simbolo di questa città e noi ci siamo permessi di portarlo fino in Sicilia, con piacere. Noi cerchiamo proprio di trovare stimoli, ci divertiamo, siamo un gruppo di amici che fa il suo lavoro, ognuno di noi ha i suoi impegni variegati, imprenditori, artigiani e ci divertiamo proprio, passiamo dei weekend diversi per poter, per resettare un po' le nostre problematiche di routine e ci riusciamo benissimo, ci divertiamo, c'è un po' una sindrome di Peter Pan, di ritornare un po' indietro, siamo un po' bambini, si fanno delle goliardate che magari si faceva ai tempi dell'università o quando si giocava a calcio nelle squadre, un cameratismo particolare, ci divertiamo un casino. Presidente, prossima iniziativa? Beh, prossima iniziativa, noi diciamo siamo ritornati a casa con un po' la mare in bocco, perché causa maltempo, c'è stata una pioggia e battenti e temperature vicino allo zero, sull'Etna, nella zona intorno all'Etna, a Messina c'era un cielo e un sole bellissimi, ma sull'Etna pioggia, nuvoloni e quindi non siamo riusciti a salire sull'Etna. Anche una gara ciclistica, un trofeo, il trofeo dello scalatore, che era previsto sull'Etna domenica mattina, è stato annullato e verrà disputato in un'altra data da definirsi. Sicuramente quindi noi vogliamo completare questa attività, abbiamo già creato un gemellaggio con un'associazione sportiva di Catania, e saremo loro ospiti e speriamo che loro saranno quanto prima possibile ospiti anche nostri qui a Battipaia.